Mercoledì 22 novembre 2020 Buongiorno, ben trovati appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani. Partiamo come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi, le quattro edizioni del centro. Iniziamo con quella di Pescara, sconti per lo shopping in centro, si parla di commercio. A Pescara arriva il break free day da venerdì a domenica, prezzi ridotti. E poi in alto l'indagine sulla morte del generale dei carabinieri forestali Guido Conti, la verità sulla tragedia nella terza lettera. E poi l'intervista all'interno del giornale, cambiando argomento, al ministro dell'agricoltura Martina Largo, agli under 40, dice il ministro. E poi Ciro di Gomorra, selfie e festa a Pescara nella redazione del centro, dove è arrivato l'attore Marco D'Amore. E poi vediamo le altre notizie. A Cepagatti, imprenditore preso a pugno, un arresto dei carabinieri. Pescara, ospedale nuovo macchinario contro i tumori. A Montesilvano, fanghi in mare, coro di no da parte del Consiglio Comunale. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti, Lanciano Vasto, arrestati i professionisti dei furti, fermati ladri in azione nel Chietino, rubavano in negozi e abitazioni. Più tardi vedremo un servizio in merito. Le altre notizie. Chieti, rischio che ho crollo per un palazzo, 27 famiglie fuori di casa, in via Don Minzoni. Poi Ortona, anziani scippati, denunciati i due minorenni, a Vasto, Crac, Iacovitti, ai creditori. Va un milione. Passiamo all'edizione di Teramo. Strade rotte, i soldi non bastano. Parla il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che dice che la provincia ha solo 10 milioni, ma ne servono il triplo. Le cronache. Nuovo Vescovo, spunta il nome di Iannone, nuovo Vescovo di Teramo in questo caso. E poi il giallo della pittrice scomparsa Renata Rapposelli, terza ispezione dei RIS nell'auto dei Santoleri. E poi multe nelle ZTL, chiesti quasi 500 rimborsi. Andiamo a vedere anche l'edizione di L'Aquila Vezzano sul Mona del centro. Il titolo principale riguarda proprio la morte e la scomparsa del generale Guido Conti. La verità, leggiamo prima anche nell'edizione di Pescara, la verità è nella terza lettera, sentiti sette dirigenti della Total. La procura di Pescara specifica e conferma non era indagato. E poi prende i soldi per la casa e poi l'affitta, altra truffa sisma all'Aquila, ci sono delle indagini. Poi Avezzano, io sfrattato per colpa del salvabanche. Sempre ad Avezzano, suora, vende un libro di fiave per salvare le prostitute. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Conti, il giallo della telefonata. Sul Mona un anonimo segnalò ad un sito le dimissioni dalla Total poco prima del suicidio. Cancellata dall'ex generale la memoria del PC, ora si cerca il destinatario della terza lettera. E poi vediamo che ritroviamo anche sul messaggero l'articolo riguardante l'operazione della polizia. Giacchieti saccheggiavano le case, presa banda di albanesi. E poi Giulianova, seconda autopsia, nessuna certezza, si parla in questo caso della scomparsa di Renata Rapposelli. E poi l'articolo, il fondo di prima pagina di oggi sull'inserto Abruzzo del messaggero, biblioteche verso il declino, la crociata dei direttori, la cultura dimenticata per le ex biblioteche provinciali, rischio fusione con le APTR, lettera inviata alla Regione. Vediamo poi in alto altri titoli degli argomenti che ritroveremo all'interno del giornale. Terapia e sanità, Pescara inaugura l'acceleratore lineare, poi trasporti, le ferrovie investono 140 milioni in Abruzzo. E poi il risparmio, arriva il Black Weekend, sconti nel fine settimana nei negozi della nostra Regione. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Città, si parla di politica, politica di Teramo. Il PD prepara, vedete il titolo di apertura, la spallata a Brucchi. I democratici cambiano idea e aderiscono all'ipotesi di missioni dal notaio, solo rinviate in settimana. E poi un'altra notizia che ritroviamo in alto. Non sarà ad Alfonso a dettare le candidature, nuovo scontro con Ginoble in direzione generale, in questo caso in direzione generale, del Partito Democratico. E dunque si guarda già alle elezioni, anche se manca più di un anno. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, vedete questa foto di apertura, la rivolta dei taxi che tiene in scacco la città e la politica. Questa è la foto dei fumogeni lanciati durante la manifestazione dei tassisti a Portapia al Ministero dei Trasporti a Roma. E poi venduti i segreti del governo, l'inchiesta indagata e l'esperta che passava notizie sui progetti dell'esecutivo IPM fino al 2015, consigliera fiscale di Paduan, corrotta con 220 mila euro. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica che oggi esce con la nuova e rinnovata grafica. Raoy, ho salvato la Spagna, ora bisogna chiudere le ferite. C'è l'intervista al premier spagnolo. E poi a centro pagina la foto, la festa nello Zimbabwe perché il presidente Mugabe si dimette, finisce dopo 37 anni, la signoria più lunga d'Africa. Siamo alla prima pagina del messaggero nazionale, pensioni, il governo sfida la sinistra. E poi a centro pagina, vedete, taxi in sciopero, le città si fermano, ci sono stati dei tafferugli ieri a Roma. Proseguiamo, libero il dominio degli incapaci, Italia paralizzata da incompetenti allo sbaraglio. Questo è il titolo principale del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Siamo al fatto quotidiano, il governo punisce Torino, guidata da una giunta del Movimento 5 Stelle. E Versa Limu, solo a Caserta, dove c'è una giunta PD. Questo è il titolo principale. Poi in alto, altri due titoli. Rai Flop, domenica in, chiude per due settimane. Questo è il titolo del fatto quotidiano. Stop alla parodi con la scusa del Gran Premio di Formula 1 e di altri eventi sportivi. E poi c'è un titolo che riguarda Berlusconi. Berlusconi a caccia di impunità, pure Renzi. Lo legittima oggi a Strasburgo l'udienza che riguarda proprio l'ex premier Silvio Berlusconi. Andiamo al tempo. La Raggi bastona solo a destra. Colpisce uno per salvarne cento. A Fittopoli, la sede dell'MSI di Colleoppio, assegnata in soli 20 giorni gli altri furbetti, a cominciare dalle femministe. Nessuno li tocca, scrive il Tempo. La stampa di Torino, Macron a Renzi, ferma i grillini, faccia a faccia all'Eliseo tra il presidente francese ed il presidente del PD ed ex premier Matteo Renzi, sconfiggere gli estremismi. La Corte dei diritti umani decide sull'incandidabilità, lo leggevamo prima, di Berlusconi. Poi vedete questa foto a centropagina. Thyssen nel capannone della vergogna, dieci anni dopo la strage, i fotografi, i giornalisti della stampa sono entrati per la prima volta nell'ex fabbrica, odore di bruciato e desolazione. Siamo al sole 24 ore in banca, la rivoluzione dei bonifici istantanei. Al via le prime operazioni, Banca Italia sempre più convenienti, dice i conti correnti digitali in campo, 17 istituti europei per rispondere ai big fan tech. Andiamo avanti, il giornale, la CGL sfrutta i pensionati usati contro Renzi, sciopero sulla riforma, ma è solo per aiutare Bersani, scrive il quotidiano Il Giornale. In alto, i tre ventura che hanno perso l'EMA, le responsabilità del fallimento. L'agenzia del farmaco si trasferirà da Londra ad Amsterdam. Dunque c'è stata questa beffa per Milano, scrive il giornale Gentinoi, Alfano e Gozzi. Tutti gli errori del governo, decisione di espostare la sede dell'EMA ad Amsterdam, in Olanda, presa con la classica monetina. E poi il manifesto, Mugabe, la resa e la festa. In Zimbabwe dopo 37 anni finisce il potere del novantenne presidente. Poi quelli senza, vedete a centropagina la foto, un'occasione persa per giovani e donne. Così Susanna Camusso risponde alle offerte del governo sul pacchetto pensioni. Tre pagine di niente. Giunto al terzo e ultimo round, la CGL dice no e chiama alla mobilitazione per il 2 dicembre dalla parte del governo. Invece Cisl e Will, gli altri due sindacati, e dunque è rottura proprio tra i sindacati dopo questa manovra del governo che ha visto il sì di Cisl e Will e il no della CGL. Siamo al mattino di Napoli, Mara Insigne, il Napoli manda K. Olo Shakhtar Donest e ancora in gol Lorenzo Insigne. E poi Berlusconi, l'ultimo verdetto, in candidabilità. A Strasburgo duello sui casi De Magistris e De Luca. E poi il secolo pericolo Grillo, ribadisce Berlusconi nell'intervista la sua sfida al Movimento 5 Stelle. Andiamo a vedere il quotidiano La Verità, come pagare fino al 30% in meno di Tari, rimborsi solo dal 2014 per le bollette sbagliate. E poi questa foto a centropagina, vedete quando Prodi elogiava l'Italia senza negri e incitava a lasciarli fuori, c'è questo articolo del quotidiano La Verità. E poi avvenire il quotidiano invece della conferenza episcopale italiana, pensioni senza pace. Gentiloni apre, proposte sugli sconti per le donne. Come detto, CISL e UIL apprezzano, CGL non ci sta e si mobilita. L'ultimo quotidiano a venire per quanto riguarda l'edicola nazionale. Possiamo tornare alle notizie in chiave locale. Allarme per la cultura. L'Abruzzo perderà un milione di libri. Questo è il vero e proprio allarme. Con la lettera shock di quattro ex direttori di biblioteche, lettera inviata al presidente della regione, D'Alfonso. E poi in basso, Oniwell, in campo, 50 deputati. Bessani e Melilla guidano il gruppo che oggi interroga il ministro del lavoro Poletti sulla sorte dei 420 operai dell'azienda atessana che sono vicini al licenziamento dopo la decisione dell'azienda di delocalizzare proprio la fabbrica di Atessa all'estero. Eno gastronomia e bio, le sfide di questa regione. Oggi il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina sarà all'Aquila. Intervista proprio sul giornale di oggi al ministro che scommette sugli under 40 infrastrutture e tecnologia e avverte il MDP. Lavoriamo insieme prima del voto contro destra e populismo. Andiamo ancora avanti. Dobbiamo arrivare saltando le notizie di cronaca nazionale che abbiamo visto dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Arriviamo alle cronache dalle province. Partiamo da Pescara e parliamo della sanità che funziona. Nuovo apparecchio per la lotta ai tumori è stato presentato ieri dalla ASL di Pescara. È presentato l'acceleratore lineare di ultima generazione costato 2 milioni e mezzo di euro. Il manager della ASL di Pescara, Armando Mancini, dice è preciso risparmia gli organi sani, eviterà cure lontano da casa. Dunque un acquisto importante, se così possiamo dire, per l'ospedale di Pescara nella lotta ai tumori. E poi in basso donazione di organi, come vincere i dubbi, incontro pubblico del Lions Club. Il curatore dice non è un obbligo ma un'opportunità che salva vite umane. E poi restiamo a parlare di sanità. Ordine dei medici Ceccagnoli, Maria Assunta Ceccagnoli, verso la vice del presidente uscente Lanciotti. Netto vantaggio, i votanti sono stati 1.063, il 40% degli aventi. La cronaca, pesta imprenditore per soldi, arrestato dai carabinieri. Finisce in carcere l'uomo che ha aggredito il titolare di un'azienda, dice pagati, e poi gli ha tagliato le gomme dell'auto. E poi a Pescara si è insediato ormai da due giorni il nuovo prefetto, Gerardina Basilicata. Ieri il prefetto, in visita in provincia, ha incontrato il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. E poi ancora cronaca di spalla, usura 83enne agli arresti domiciliari. E poi come cambia il traffico? Siamo sempre a Pescara, pista ciclabile in via Muzzi, spariscono 15 posti auto. L'assessore Civitarese e l'associazione Pescara Bici difendono il progetto. Il comune procederà con altri tratti nella zona, tra i due ponti e in via Pepe. E poi negozi, troppi furti, contraffazioni, telecamere, allarmi, vigilanza privata. Ecco come si difendono i commercianti. E poi questo articolo di spalla con la scrittrice Dacia Maraini, che incontra i ragazzi del liceo artistico di Pescara. Parliamo ancora di commercio, lo shopping natalizio parte con tre giorni di super sconti. Siamo sempre a Pescara, comune e associazioni di categoria danno il via al Black Friday nel fine settimana all'interno del quadrilatero centrale, vendite a prezzi ridotti, inoltre 200 negozi. E poi ieri a Pescara festa dell'albero, cerimonia in piazza con tanti bambini delle scuole cittadine. E poi sempre a Pescara, in piazza prende forma alla pista, l'area per pattinare sul ghiaccio, aprirà al pubblico all'inizio di dicembre. Dunque tra pochi giorni manca il parere dell'Aula sulla nuova Pescara. Siamo sempre nel capoluogo adriatico per parlare di questo che è diventato un po' l'argomento principe degli ultimi giorni. Antonio Antonelli di Forza Italia accusa il presidente della giunta regionale Luciano De Alfonso di non aver consentito al capoluogo adriatico di esprimersi sulla fusione dei tre comuni. La replica del presidente che dice una bufala. E poi c'è l'intervento dell'esponente di Forza Italia Carlo Masci che dice la nuova città è possibile ma occorre responsabilità. Oggi a Pescara, tornando a parlare di cultura, prima si parlava della crisi delle biblioteche abruzzesi, oggi ci sarà un incontro per la presentazione del libro dell'Arcivescovo di Chieti e Bruno Forte, La Porta della Bellezza, libro che sarà presentato nell'Aula Federico Caffè dell'Università d'Annunzio di Pescara. Siamo a Montesilvano, le scuole celebrano l'arte per un giorno, l'Istituto Tecnico e il Liceo Scientifico aderiscono al progetto promosso dal Ministero con un ricco programma di iniziative. E poi, vice campionessa regionale under 14, Daria Gianzante, talento del tennis abruzzese, premiata ieri mattina a Montesilvano, a Palazzo di Città, dal sindaco Maragno. Restiamo a Montesilvano, Fang in mare, un coro unanime di No, Disco Verde all'ordine del giorno di Di Stefano, via libera anche alla convenzione sulla centrale unica di committenza. E poi, Nuova Pescara distrae i politici, lo dice l'assessore comunale del comune di Montesilvano, Mauro Orsini, l'inerzia amministrativa di questo periodo, dice, creerà grandi problemi. E poi, in basso, l'Università della terza età ha lezione sui valori cattolici, politica e legge elettorale. Ancora cronaca dall'area metropolitana di Pescara, ci spostiamo a Francavilla, rapinatore solitario, in azione al Lidl, malvivente, armato di pistole e coltello, volto coperto, terrorizza le cassiere, porta via 1.600 euro all'ora di chiusura. Accaduto ieri a Francavilla al mare, sempre a Francavilla, due denunce per stoccaggio abusivo di materiali edilizi e ricambi auto, denunce da parte dei carabinieri. Da Francavilla ci spostiamo a San Giovanni Teatino, troppo fango, stadio di San Giovanni Teatino impraticabile, danni a Prato e Spogliatoio. Cittadella dello Sport, dunque, alle prese con il post-maltempo. E proprio questi danni allo stadio di San Giovanni Teatino faranno sì che domenica prossima la gara tra San Buceto e Chieti, inizialmente programmata proprio a San Buceto, si giocherà sul campo neutro di Migliani, proprio a causa dell'impraticabilità del campo di San Buceto. Siamo alla cronaca della Val Pescara e dell'area Vestina. Partiamo da Popoli, dunque, dalla Val Pescara. Tutti i politici d'accordo, ospedale salvo fino al 2032. Popoli, la proposta di legge elaborata da Avanti Tutta, piace al PD, al Movimento 5 Stelle, a Forza Italia, prevede un emendamento che fa slittare il riordino della rete sanitaria. E poi restiamo nell'area della Val Pescara perché sono ancora senza esito, dopo due giorni le ricerche di Vincenzo Perruzza, il professionista commercialista in pensione, scomparso da due giorni. Proseguono senza sosta le ricerche dei vigili del fuoco e dei carabinieri. E poi, a Farindola, la grande festa dei Triozzi, la famiglia originaria di Penna è radunata i suoi figli nel mondo per il consueto incontro in Abruzzo. E poi a Caramanico, vertice sul recupero dei terreni abbandonati, parlamentari e tecnici, insieme per studiare una legge sulla green economy in montagna. Ci spostiamo a Chieti per parlare di cronaca dell'operazione della squadra mobile della questura teatina. Presi i professionisti dei furti in casa, sgominata una banda di albanesi, dormivano in agriturismo e poi colpivano a ripetizione nei paesi del Chietino. Ieri questa operazione della squadra mobile di Chieti è stata presentata in conferenza stampa. Possiamo andare a vedere il servizio. Sgominata dalla squadra mobile di Chieti, la gang che si era specializzata nei furti, mordi e fuggi in alcuni centri del Chietino, in manette nelle ultime ore tre albanesi con un quarto uomo al momento irreperibile, recuperata anche una notevole quantità di refurtiva. Oggi restituiamo un minimo di tranquillità alla popolazione di questi paesi che è stata colpita da questa serie di furti avvenuti tra il 2 e il 3 novembre ultimo scorso. Si tratta di un sodalizio di cittadini albanesi, particolarmente pericolosi perché hanno compiuto una serie di furti a raffica, quindi una proclività al reato di furto notevole. Gente che entrava tranquillamente e secondo loro anche impunemente nelle case, addirittura anche quando la gente stava dormendo, razziavano tutto quello che trovavano e dopodiché si davano alla fuga. Alcune volte tornavano direttamente in Albania perché da alcuni mesi, da alcuni anni anzi è stato tolto il visto, quindi praticamente possono tranquillamente entrare e uscire per motivi di turismo. Erano tutti infatti teoricamente sulla carta turisti. Il tutto è nato da un controllo che abbiamo fatto a seguito di un aumento anomalo dei furti nelle zone di Arielli, Torrevecchia, Caldari e zone limitrofe. Sapevamo, approfondendo le fonti infoinvestigative, sapevamo che era gente di fuori, che non era gente locale, probabilmente stranieri. Quindi abbiamo fatto un capillare riscontro su tutte le strutture ricettive. In una di queste, un bed at breakfast di Villa Caldari, che è una frazione di Ortona, abbiamo trovato questi quattro. Quindi poi quello che doveva essere un semplice controllo si è rivelato molto risolutivo perché abbiamo recuperato tantissima aree furtiva e poi che abbiamo fatto? Abbiamo proceduto a ritroso, cioè avevamo gli autori dei furti, ma non avevamo i furti e quindi operando a ritroso siamo riusciti a debitare loro sette furti attraverso la denuncia dei proprietari a cui in massima parte è stata restituita la aree furtiva. Siamo riusciti con molta difficoltà a rintrecciarne 3 su 4 tra i territori di Frosinone e Marcianise e quindi abbiamo operato in collaborazione con le squadre mobili di Caserta e di Frosinone, nonché con il commissariato di Marcianise. E con un'indagine fatta in brevissimo tempo, con il metodo tradizionale, siamo riusciti a restare 3 persone su 4. Non disperiamo di trovare il quarto che potrebbe essere catturato da un momento all'altro. Restiamo a Chieti, il procuratore siamo pronti e in prima linea proprio ieri in occasione di questa conferenza c'è stata anche la prima uscita pubblica per il nuovo procuratore capo di Chieti Francesco Testa. La percezione della sicurezza in questa provincia, ha detto il procuratore di Chieti, deve restare alta. E poi in basso addio a Mario Tracanna, ieri l'amico della Maiella, Folla, i funerali a Roccamontepiano del 54enne morto domenica scorsa in un incidente in montagna sulle versante pescarese del Maiella. E poi un incontro in memoria di Rigopiano, vedete sempre in basso, per ricordare il poliziotto Dino di Michelangelo. Andiamo avanti, siamo alla seconda pagina che riguarda la cronaca di Chieti. Piscina a fare da 120 mila euro in corsa, ci sono cinque associazioni, scaduto il termine per presentare le domande e diventare partner della Teate Servizi per sette mesi. Tra i candidati spuntano la Progetto Sport di Pescara e la Maiella Nuoto di Guardia Grele. Ci sono anche due società romane. E poi più in basso, oggi nella chiesa di San Pio X a Chieti, ci sarà l'addio all'ex giornalista, cronista del Tempo, Fernando Cirotti, che era rimasto ferito una settimana fa in un incidente stradale a Chieti, trasferito a Pescara nel reparto di rianimazione e espirato qualche giorno dopo per le gravi ferite riportate. E poi bottiglia incendiaria sulla vetrina al centro d'Ama a Chieti dopo il rogo del furgone Nuovo Raid contro la stessa ditta. E poi rischio crollo in via Don Minzoni, via allo Sgombero, di una grande palazzina che ospita 27 appartamenti. E poi in basso, festa al Tricalle, gli alunni piantano dieci alberi. E poi l'iniziativa dei negozianti, Black Free Day anche in centro a Chieti, arrivano gli sconti anti-crisi. E poi un libro di Aurelio Bigi per festeggiare e ricordare i 60 anni del Rotary Club di Chieti. Siamo alla pagina dell'Aquila, ma siamo in particolare a Sulmona, perché si parla ancora ovviamente dell'inchiesta sulla morte del generale Guido Conti. Si cerca alle poste la terza lettera spedita dal generale. Ascoltati sette dirigenti totale ed il blogger che aveva scambiato messaggi con il generale prima della tragedia. Spunta anche una misteriosa telefonata anonima. Proseguono dunque le indagini. E' definitivamente chiarito che si è trattato di un gesto volontario. L'esame Stub ha rilevato tracce di polvere da sparo sulla mano destra del militare in congedo. E poi la procura dice che non è indagato sul rigopiano. Ecco gli atti chiesti dai familiari e resi pubblici l'avvocato Margiotta. Così facciamo chiarezza. E poi in basso, cambiando argomento, ci spostiamo nella Marsica. Ad Avezzano per questa bella storia. La suora che vende libri di fiave per salvare prostitute. Ricavato alla missione che accoglie le ragazze. Sabato inaugurazione all'Istituto Sacro Cuore di Avezzano. Proseguiamo. Siamo alla pagina di Teramo. Del centro il giallo della pittrice scomparsa Renata Rapposelli. Scomparsa e è morta perché è stato ritrovato il corpo senza vita. Terza ispezione nell'auto dei santoleri, ovvero dell'ex marito e del figlio. Domani nuovi controlli e sopralluogo a Tolentino. Forse ci sarà anche il figlio Simone. Eseguiti prelievi nell'autopsia bis sul corpo della pittrice di origine teatina. E poi restiamo a Teramo. Il nuovo vescovo, tra i tanti nomi, si fa anche il nome di Filippo Iannone. Arcivescovo napoletano di 60 anni, vice reggente della diocesi di Roma. Avrebbe superato l'altro papabile Ernesto Mandara. E poi in basso una notizia luttuosa perché è scomparso e morto l'alpinista Diego D'Angelo. Vice presidente degli Aquilotti e Guida Alpina ha aperto tre vie sul Gran Sasso. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora dobbiamo andare a vedere ancora, prima di parlare, nell'ultima parte di sport, le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e del quotidiano La Città. Lo faremo dopo qualche attimo di pubblicità. Seconda pagina di seconda parte, più che altro di mattino 6. Ferrovie arrivano 140 milioni di euro. Siamo sulle pagine del Messaggero per parlare di trasporti, di questa bella notizia che riguarda proprio i trasporti nella nostra regione. Vedete nella foto inquadrato un treno a lunga percorrenza. Il presidente D'Alfonso, come leggiamo qui nel risvolto dell'articolo del Messaggero, rivendica il successo e dice porto a Roma i problemi reali. La bretella di Prato alla Peligna utile per i collegamenti con Pescara. Andiamo ancora avanti per arrivare proprio alla cronaca di Pescara. Partiamo e ripartiamo dalla notizia che riguarda l'asile di Pescara, la buona sanità, la svolta di civiltà nella cura dei tumori, così definita in questo articolo. E' finalmente entrato in funzione, dopo un anno dall'acquisto, il nuovo acceleratore lineare stoppa la diaspora dei pazienti. L'apparecchio ad alta tecnologia consentirà di bersagliare con precisione l'obiettivo evitando danni agli organi sani. E poi metrici. Maria Assunta Ceccagnoli verso la Presidenza. La candidata designata alla successione di Enrico Lanciotti parte in vantaggio nello spoglio delle schede per il rinnovo dell'ordine. E poi camici bianchi. Parliamo ancora di sanità. Da tutto lo stivale sfilano al Premio Medicina Italia. I riconoscimenti a specialisti ed equip d'eccellenza. Sul podio anche gli abruzzesi Cianchetti e Gaspari. Siamo ancora a Pescara. Tre giorni di sconti. Così il centro sfida il commercio digitale. Il Pescara Shopping Village lancia il Black Weekend. Vendite promozionali e vendite non solo. Nel quadrilatero del centro cittadino. E poi tavolo di partito. Parliamo di politica. Candidati vecchi contro gli aspiranti. Acque agitate alla direzione del Partito Democratico. E poi in basso Maremonti. Il lento crepuscolo del processo. Dopo la prescrizione dei reati più gravi. Si procede soltanto per gli illeciti amministrativi delle imprese. Ancora cronaca di Pescara. In questo caso l'area metropolitana. Siamo a Montesilvano. Nuova Pescara. La grana. Indirizzi. L'ultima frenata di Montesilvano. Troppe vie fotocopia. Chi dovrà rifare i documenti? E poi la cronaca. In questo caso a Cepagatti. Impreditore massacrato di botte. Dopo un mese aggressore. in manette in questa operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara. Siamo all'Aquila. Progetti case e gli inquilini adesso ricorrono in appello. L'iniziativa legale riguarda i conguagli sui consumi reali di gas ed elettricità. Alla nuova amministrazione verrà chiesto il riconteggio di tutte le bollette. E poi Sant'Antonio. La piastra abitativa cade a pezzi. Chiuso il pianerottolo. E poi lo scontro. Vedete questo articolo di Spalla. La piscina il comune concede dieci giorni alla verdeacqua. E poi restiamo sempre all'Aquila per parlare di sicurezza. Nuova palestra all'Ipsiar. L'inaugurazione con Caruso. E poi la cronaca. Falsa dimora. Le sequestrano l'alloggio. Parliamo dei furbetti del sismo. Una donna avrebbe denunciato come abitazione principale il fabbricato in cui abitavano delle studentesse. Su questa vicenda possiamo andare a vedere il servizio della nostra redazione aquilana. Avrebbe presentato false autocertificazioni per attestare che l'immobile fosse la propria abitazione principale. In modo tale da ottenere il contributo per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 2009. Mentre quell'unità immobiliare risultava invece ceduta in locazione alla data del 6 aprile. Per questo i finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno sequestrato un immobile del valore di 75 mila euro su ordine del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella. Ha un 37enne aquilano che è stato beneficiario di contributi per l'autonoma sistemazione e per la ricostruzione dell'immobile di proprietà, entrambi inospettanti a questo punto. La misura cautelare giunge al termine di indagini nell'ambito di una più ampia attività investigativa svolta dalla Polizia Municipale in sinergia con il nucleo di Polizia Tributaria della Finanza. Finalizzata a riscontrare la sussistenza dei requisiti legittimanti l'accesso ai finanziamenti pubblici destinati alla ricostruzione degli immobili, costituenti abitazione principale e ovviamente danneggiati del sisma del 6 aprile. Le indagini avrebbero appurato che l'indagato dimorava stabilmente in un altro luogo, mentre l'unità immobiliare oggetto del contributo ottenuto risultava condotta in locazione da terzi e comunque non era di certo adibita ad abitazione principale. Il sequestro è scattato a seguito delle indagini di natura patrimoniale condotte dai militari che hanno consentito di ricostruire e quantificare i beni e le disponibilità finanziarie riconducibile all'indagato. Siamo ancora all'Aquila, parliamo del teatro strabile abruzzese perché Simone Cristicchi è il nuovo direttore, lo vediamo da questo articolo di apertura di pagina 47, il nome è stato scelto a seguito di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, hanno risposto in 72, l'indicazione è caduta sull'autore poliedrico che ha raccolto tanti premi sia nella scena musicale che nel teatro di prosa. E poi autorizzazione per le luminarie di Cosimo dice nessun problema e poi per la prima al ridotto c'è Gabriele Lavia con i ragazzi che si amano parte la stagione in abbonamento oggi dalle 21 e domani alle 17, posti già esauriti in due mezze giornate. E poi siamo alla pagina di Avezzano sul Mona, torniamo a parlare della vicenda del generale Conti, cancellata la memoria del computer, il generale aveva proceduto nel negozio Archimede ad eliminare tutte le mail giorno prima del suicidio. Il programma utilizzato ha zerato l'intero contenuto, a questo punto tutti i segreti restano con lui nella bara. E poi Enteparco, il bilancio di Jezzi, di Franco Jezzi tra luci ed ombre e poi Morino, il sindaco contro il ladro del cimitero. In basso ad Avezzano, Tim taglia il telefono alla comunità montana. Andiamo ancora avanti e passiamo alla pagina che riguarda Chieti, saccheggiano case e negozi presa la banda degli albanesi. Abbiamo visto poco fa il servizio su questa indagine a buon fine della questura di Chieti, degli agenti della squadra mobile della questura di Chieti. E poi bottiglia incendiaria al Centrodama e il secondo attentato. Ambiente alla Tricalle, nel quartiere collinare di Chieti, piantati dieci alberi dai ragazzi delle scuole. E poi in basso, centrale 118 reparti, il comitato in calza, parliamo di sanità, la regione sarebbe intenzionata a collocarla nell'aeroporto di San Buceto. Il porto vuole la frutta dai Balcani, siamo ad Ortona, parliamo del porto di Ortona. Le autorità di Civitavecchia Ancona firmano l'accordo per intercettare il traffico delle merci tra l'Est e Barcellona. L'agroalimentare di Roma pronto a inserirsi sulla rotta Nervegna, consulente della regione per i porti, dice opportunità da non fallire, si faccia il dragaggio. E poi tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico dal 4 dicembre per i lavoratori della Oniwell di Atessa. E poi cronaca, tornando ad Ortona, scippavano le vecchiette denunciati due minorenni. E poi in Basso, a Lanciano, il sindaco Pupillo scommette sulle biciclette installate in città le rastrelliere, vietato legare le due ruote ai pali, si riorganizza il bike sharing. E poi il funerale dell'ospedale San Pio. Siamo a Vasto, Tagliente, politico vastese, invita alla mobilitazione proprio sull'ospedale cittadino. Andiamo ancora avanti, siamo a Teramo, sfiducia all'opposizione, non andiamo dal notaio, chiesta la convocazione di un consiglio straordinario senza gettone di presenza e 5 Stelle invece con Pomante. Fibrillazioni anche nella maggioranza, dunque ancora problemi per quanto riguarda la giunta di Maurizio Brucchi a Teramo. Andiamo a vedere il punto della situazione nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Alla richiesta del consigliere comunale di Teramo Gianluca Pomante, che invitava opposizione e dissidenti della maggioranza a recarsi davanti a un notaio per firmare la sfiducia al sindaco Brucchi, si aggiunge un altro no. E il no della consigliera civica Paola Cardelli, che si allinea alla medesima posizione assunta dagli ex alleati del primo cittadino e dal resto della minoranza. In parole semplici, chi vuole sfiduciare Brucchi non deve andare dal notaio, ma in consiglio e pubblicamente votare no al bilancio. La questione proposta dal volontario che si è fatto strumento del consigliere regionale Gatti, perché ha presenuto di andare dal notaio a dimettersi, mi trovo assolutamente contraria sia nel metodo che nel merito, perché la sede istituzionale di sfiducia nei confronti di un'amministrazione è il consiglio comunale. Esiste una mozione di sfiducia già pronta da giugno. Invito ancora una volta tutti i consiglieri della maggioranza, ma soprattutto quelli di futuro, a votare questa sfiducia. Per quanto riguarda la mia posizione, sarò al consiglio comunale quando si approverà, come già detto precedentemente, quando si presenterà il bilancio. Sarò presente e, tra l'altro, se, come è vero che sembra che il sindaco abbia aderito alla proposta, di rimettere in campo la questione di Via Longo, quindi di chiudere quella questione, di chiudere la questione della Tercop e di introdurre nel prossimo programma della TEAM, la tariffa puntuale, nell'occasione di questo consiglio sul bilancio, potrò anche partecipare alla votazione, naturalmente votando no, ma per quanto mi riguarda mantenendo quindi il numero legale. Siamo ancora alle pagine della cronaca di Teramo dal messaggero recupero del Teatro Romano. Vedete l'articolo di spalla, Teramo Nostra si rivolge al Tarre. Poi in basso, Val Vibrata preso spacciatore latitante americano. E poi ancora a fondo pagina, multe ZTL rimborsate, ma i lavori si prolungano nel centro storico di Teramo. Siamo alla pagina di Giulianova, di Roseto e della Val Vibrata. Entra in ballo il perito del processo di Ara. Ezio Dentis sarebbe fatto avanti con la difesa di Giuseppe Simone Santoleri per offrire la sua consulenza nella vicenda. Stiamo parlando ovviamente della vicenda che riguarda proprio la pittrice Teatina. Dopo la seconda autopsia di ieri, domani sopra il luogo nell'auto, alla ricerca di terra e subito dopo il blitz a Tolentino. E poi praticano un foro nel muro e rubano soldi dalle macchinette alla stazione IP. Ennesimo colpo notturno ai danni di un bar tabacchi a Giulianova. E poi in basso, prima ad Albadriatica e poi a Roseto, spiaggia, tappeto di detriti ed erosione e emergenza dopo le mareggiata ad Albadriatica. Roseto, vertenza rolli, tavolo politico in comune. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo passare a vedere insieme invece le pagine interne del quotidiano La Città. Partiamo dalla cronaca regionale. Giornalisti D'Alfonso non perde il vizio screzio con un cronista del messaggero l'altra mattina in occasione della presentazione dei lavori per quanto riguarda il taglio della diga foranea al porto di Pescara. C'è stato questo screzio con il cronista del messaggero Paolo Vercesi. e su quanto accaduto si registrano gli interventi dell'Ordine dei giornalisti e del sindacato dei giornalisti abruzzesi. Il presidente D'Alfonso ha postato su Facebook il video delle sue dichiarazioni per rispondere alle accuse. Politica regionale in consiglio. D'Ignazio fa da stampella per garantire il numero legale. In basso, la vita indipendente non è un privilegio. Manolo Pelusi torna a criticare la regione per le promesse non mantenute. La caduta di Brucchi. Anche i democratici sposano la linea del notaio. Il PD Unito aderisce alla proposta pomante con un rinvio tecnico. I civici di D'Alberto spiazzati invece sulla mozione. Proseguiamo. Non sarà D'Alfonso a decidere le candidature in direzione regionale del PD Ennesimo Screzio tra il deputato Tommaso Ginobili ed il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso. E poi 25 novembre, mai più silenzio, manifesti sui cantieri per promuovere il centro antiviolenza Fenice. Il 25 novembre sarà il giorno contro la violenza sulle donne. Cianciotta, capo dell'osservatorio infrastrutture. Il professore Terramano è stato nominato alla presidenza dell'ente che studerà gli investimenti sulle reti fisiche ed immateriali. Per la salvezza delle biblioteche storiche abruzzesi, lettera aperta, lo abbiamo visto anche prima, dei quattro ex direttori delle biblioteche provinciali al presidente della regione Luciano D'Alfonso per salvare migliaia di volumi e più in generale per salvare le storiche biblioteche della nostra regione. Siamo ancora a Terramo, istituto zooprofilattico nel gruppo sulle armi di distruzione di massa. Il caporale invitato alla Farnesina lavorerà in ambito G7 per la consulenza sugli agenti biologici. E poi il pasticcio. Siamo a Terramo sulle ZTL. Il comune annuncia però che a gennaio risarcirà 474 multe errate ai varchi ZTL della città. Emergenza a Santa Maria Abitetto, i vigili del fuoco Transenano, Via Muzzi e Vico del Cigno per il pericolo. Crolli come possiamo vedere anche dalle immagini. E poi per lavori del gas a Porta Romana è stato invertito il senso di marcia. Siamo alla pagina della provincia. Potabilizzatore in difficoltà per l'acqua torbida. Ancora risolti i problemi per l'impianto di Montorio al Vomano. Disagi in molti comuni della valle del Vomano. E poi in basso, post-sisma, Federico Agostinelli critico con la Regione. Scomparso il contributo ai professionisti. 5 mila euro riservati a chi ha dovuto sospendere le attività. Siamo alla pagina della valle vibrata. Sant'Egidiese di 33 anni sale sul bus per Roma e scompare nel nulla. Ci sono le ricerche di questo giovane. Anche la trasmissione, chi l'ha visto, ne parlerà in serata. E poi a Tortoreto, fondi in arrivo per il secondo lotto del depuratore. Sarà firmata a breve la convenzione per completare l'impianto di Tortoreto. Ancora a Tortoreto, americano arrestato sul lungomare per spaccio di droga. Poi a Torano, sanità, è necessario specializzare i presidi ospedalieri di base. Il PD Vibratiano dà la sua ricetta e apre alla proposta del sindaco di Martinsicuro. Siamo alla pagina di Giulianova, la vicenda della morte della pittrice Renata Rapposelli, inquirente a Tolentino con il figlio della pittrice. Domani sopra il luogo nella Scarpata, dove è stato trovato il corpo della donna. Nuovi esami sull'auto dei Santoleri. I sospetti si concentrano sull'ex marito della vittima. E poi, aggiunta a prova il ritiro del bando per la sostituzione della Mastropietro. Siamo a Giulianova. In basso serve un intervento straordinario della regione. Monticelli e D'Ignazio sollecitano D'Alfonso. Un uomo è stato trovato mentre scaricava rifiuti. E poi risarcimento. Chiedono a Giulianova 23 mila euro per il figlio caduto con la bici. Tassa su rifiuti. Il turismo fa il processo all'amministrazione. Siamo a Roseto. Duro attacco durante la conferenza convocata per la manifestazione di venerdì sera a Palazzo del Mare. E poi in basso a Pineto. Non abbiate paura di denunciare chi commette violenza su di voi. Jessica Notaro, 28enne di Rimini, sfregiata dall'ex Collacido, ha incontrato un gruppo di studenti di scuole medie e superiori. Ieri vi avevamo a tal proposito proposto il servizio della nostra Tania Bonnici Castelli. Siamo a Roseto. Vertenza Rolli appello ai politici per dialogare con l'azienda. Sindacati ed RSU chiedono al sindaco di Girolamo e ai deputati rosetani rassicurazioni sulla delocalizzazione. E poi nessun parli. Anche le scuole di Atri partecipano al progetto su musica ed arte. Tornando a Roseto, Casa Civica torna a chiedere un tavolo sul turismo necessario aprire un serio confronto tra istituzioni e operatori privati del settore per lo sviluppo dell'offerta. Siamo alla pagina della cultura. L'arcivescovo di Chieti, Monsignor Brunoforte, presenta il suo libro oggi a Pescara, La Porta della Bellezza. Libro che sarà presentato nel pomeriggio nell'aula Federico Caffè dell'Università d'Annunzio. E poi Simone Cristicchi, nuovo direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo. Dunque è ufficiale, abbiamo visto anche dalle pagine. Siamo arrivati allo sport, alle pagine di sport del quotidiano La Città. Si parla del Teramo, il Teramo 2 che va a caccia degli ottavi di Coppa Italia a Viterbo. Impegnati bianco-rosso oggi in Coppa allo Stadio Rocchi. Formazione imbottita di seconde linee. Poi in basso palla a mano, Lions Teramo inarrestabile, quarto successo e terzo posto in classifica. Andiamo a vedere le pagine di sport dei tre quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola. Sempre più in signe, vedete in alto il titolo in giallo, Lorenzo Il Manzignifico apre la festa. Di Napoli può sperare ancora, ha battuto lo Shakhtar Donest 3 a 0 ieri allo Stadio San Paolo, quasi deserto. Neanche 20.000 spettatori per la gara tra gli azzurri e la formazione dello Shakhtar Donest. E poi a centropagina giornata, serata davvero importante quella di oggi per le altre due formazioni. Sveglia di bala, c'è Messi, la Juventus affronta il Barcellona. La Roma gioca invece con l'Atletico Madrid. Siamo al Corriere dello Sport, Juve-Roma, noi la Spagna. Allegri-Barsa ti battiamo, Di Francesco, Atletico non fai paura. E poi favoloso, in signe e salta, l'Orchestra Napoli 3 a 0 allo Shakhtar Donest. Infine il quotidiano tutto sport, vi rivolgiamo così. Stasera Juve-Barcellona, bianconeri a caccia degli ottavi. I guain e compagni sanno come si battono i catalani. Possiamo andare a vedere ora le pagine di sport del centro e del messaggero. Partiamo dal centro, il calcio nella bufera, parliamo del calcio italiano. Malagò ora tira il freno. Figgici no al commissariamento, tutto questo dopo le dimissioni dell'ormai ex presidente Carlo Tavecchio. E poi, come detto, la Champions League. Speranze intatte per il Napoli dopo il 3 a 0 di ieri sullo Shakhtar. E questa sera in campo la Juve all'assalto del Barcellona. Juventus-Barcellona al Juventus Stadium. Mentre giocherà in Spagna, a Madrid, in casa dell'Atletico, la Roma. Di Francesco, tecnico dei giallorossi, dice voglio la qualificazione subito. Il ragioniere del Pescara, ovvero Marco Carraro, centrocampista della formazione Bianca Azzurra. Dal nuoto all'Inter, ora mi godo a Zeman. Mia madre mi aveva iscritto in miscina, ma io volevo giocare a caccio. L'estate scorsa l'ho resa felice. Prendendo il diploma a questo ritratto a tutto tondo di Marco Carraro, che da qualche settimana è titolare nel centrocampo Bianca Azzurro. Ma quella di ieri è stata anche la prima giornata ufficiale di Massimo Oddo da allenatore dell'Udinese. Udinese, la mia occasione, ha detto l'ex tecnico del Pescara, che ha rescisso proprio il contratto con i Bianca Azzurri per firmare con la formazione friulana. Noi andiamo ad ascoltare il servizio di Andrea Costantini, le parole di Massimo Oddo da allenatore dell'Udinese, e le ultime sul Pescara, che questo pomeriggio giocherà in amichevole ad Ottona e dunque farà le prove generali in vista della gara di sabato alla Spezia. Massimo Oddo ricomincia dalla Serie A, da Udine. L'allenatore pescarese, che ha guidato il Delfino nel 2016 alla sua sesta e ultima promozione nella massima serie, ha trovato ieri l'intesa con il club della famiglia Pozzo, che ha dato il ben servito a Gigi Del Neri, dopo la sconfitta a Casalinga di due giorni fa alla Dacia Arena contro il Cagliari. Un matrimonio che si sarebbe potuto celebrare alcune settimane fa, quando la panchina di Del Neri era vacillata prima della secca vittoria sulla Sampdoria. Questa è stata la volta buona invece per il campione del mondo 2006, che in Friuli porta anche gli altri uomini chiave dello staff tecnico, il vice Marcello Donatelli e il collaboratore Luciano Zauri. Io vengo da due anni completamente all'opposto, un anno fantastico, un anno da incubo. Purtroppo mi porto dietro un'etichetta dell'allenatore vincente in via e dell'allenatore che non ha mai vinto in A. Quindi sono qui per cercare di smentire questo. Questo è il mio obiettivo. Grazie alla società di questa opportunità. Comunque sia un ringraziamento al mister Del Neri. Io ci sono passato e credo che quando le cose non vadano bene non è sempre e comunque solo colpa di un allenatore. E' ovvio che paga sempre lui. E' comunque un allenatore che stimo moltissimo. Però è una cosa che aspetta tutti noi prima o poi. Quindi può succedere e comunque vanno a lui i ringraziamenti per quello che troverò. Perché comunque è tutto frutto di quello che è stato il suo lavoro. Poi per il resto io ovviamente sono molto contento di questa opportunità. L'approto di Oddo all'Udinese da una parte accresce la colonia di tecnici abruzzesi in Serie A con Di Francesco e Giampaolo che stanno facendo benissimo sulle panchine di Roma e Sampdoria. Dall'altro si riflette positivamente sulle casse del Pescara che si libera del contratto dello stesso Oddo con scadenza giugno 2019. Con l'Udinese il legame fino a giugno 2018 con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento e domenica prossima debutterà contro la capolista Napoli. Curiosamente anche lo scorso anno Oddo fece il debutto assoluto da allenatore di Serie A contro il Napoli che fermò all'Atletico Cornacchia sul 2-2 dopo essere stato avanti 2-0. Dalle spalle di Zeman si allontana anche il fantasma che aleggiava nel corso della miniserie di risultati negativi che si è fermata con la vittoria sulla Provercelli. A tal proposito il Pescara continua a lavorare in vista della trasferta di La Spezia di sabato prossimo. Di pomeriggio la singola seduta odierna. Domani alle 15 amichevole ad Ortona contro la locale formazione militante nel campionato regionale di promozione. Per la gara del picco Zeman dovrà ancora fare a meno di Balzano e Proietti. Resta in forte dubbio Bovo. I biancazzurri resteranno 5 giorni in Liguria visto che dopo la partita di La Spezia martedì sera 28 novembre ci sarà Ammarassi il match di Coppa Italia con la Sampdoria di Giampaolo e degli ex Torreira, Caprari e Berre. Ognuno è il suo utile. Parliamo ancora del Pescara. Come diceva Andrea Costantini, Bovo, Balzano e Proietti non recuperano. Perrotta felice perché Zeman mi ha ridato fiducia. Con lui non ci sono titolari. Questa intervista all'ex giocatore del Teramo è tornato titolare nelle ultime due partite. A proposito di Serie B c'è una notizia che riguarda Lascoli. Vedete in basso si è dimesso l'allenatore Maresca in arrivo. Cerse Cosmi in terra marchigiana. Siamo alla Teramo. La Coppa Italia è Teramo a Viterbo con la testa alla San Benedettese. Asta dà spazio alle seconde linee nella sfida delle 16.30 al Rocchi che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Vediamo quali potrebbero essere le due formazioni. Viterbese 4-3-3 con Iannarilli in porta, Peverelli, Ciliento, Sini e Sanè in difesa. Cenciarelli l'ex del Teramo, Cabasci e l'altro ex di Paolo Antonio. In avanti vendeputte, Razzitti e Mendez. Per il Teramo come detto spazio alle seconde linee. Lewandowski in porta, Milillo, Altobelli e Diallo nel 3-4-2-1 agiranno in difesa. Mancini, Graziano, Paolucci e Pietrantonio dovrebbero essere i quattro di centrocampo. Sumare e Bacio Terracino a supporto di Barbuti. Dirigerà il signor Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. Inizio fissato allo stadio Rocchi di Viterbo alle 16.30. Per quanto riguarda invece il campionato, c'è attesa per la gara che i biancorossi giocheranno lunedì al Bonolis in posticipo alle 20.45. Proprio una gara molto attesa, una sorta di derby per la formazione biancorossa. Siamo alla Serie D, l'Aquila e i vecchi soci preparano l'assemblea di martedì ed il futuro della formazione aquilana. E poi siamo al calcio dilettantistico, la storia, un personaggio, Petra in questo caso, della Rosetana, un poker di gol per Aneta e Mariana. L'attaccante romeno della Rosetana racconta la sua storia e dedica le sue prodezze alla mamma e alla sorella. Siamo al calcio a 5, l'UEFA Futsal Cup, il Pescara ci riprova questa sera in campo per la Final Four, alle 20 contro i serbi dell'Oconomac al Palazzo, Giovanni Paolo II. Il tecnico Mario Patriarca dice girone duro, ma ci faremo valere. E poi una notizia che riguarda il nuoto. In basso del barone, 11 anni, pieni di talento, al trofeo invernale Abruzzo, 400 esordienti in gara a Lenaiadi, con il trionfo di questo atleta, come detto, di appena 11 anni. Chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero. Per Rotta, grazie Zeman, l'intervista al difensore del Pescara, che ringrazia il tecnico Boemo per la fiducia. E poi, vedete di spalla, Oddo a Udine e il Delfino risparmia un milione. Il nuovo tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, per il Pescara, ovviamente, rescissione del contratto. Oddo aveva un contratto fino al 30 giugno del 2019. Per il Pescara, per il cassiere della società Bianca Azzurra, un risparmio non da poco. Come detto, questo pomeriggio, restando alle vicende Bianca Azzurra, test amichevole ad Ortona, alle 15, per la formazione di Zeman. A seguire ci sarà l'inaugurazione del nuovo store del Pescara in centro ad Ortona. E poi, Krajubek, primo esame europeo per il Pescara. Questa sera alle 20, siamo al calcio a 5. Ovviamente, ci sarà la prima grara della UEFA Futsal Cup per i Bianca Azzurri, che potranno ritrovare i loro tifosi al Palagioanni Paolo II. Siamo alla seconda pagina, invece, di sport dal messaggero. In alto, Serie C, il Teramo, con le seconde linee oggi in Coppa a Viterbo. Poi, Serie D, l'Aquila. Adesso Chiodi va in cerca di nuovi soci. Il presidente Medita di tornare al timone con altri imprenditori. E poi, ancora Serie D, Avezzano. Ora inizia un mese decisivo per la formazione di Marco Giampaolo. E poi, invece, la palla a mano. Lions-Teramo, al giro di Bola, la vetta è più vicina. La neopromossa Teramana, allenata da Marcello Fonti, chiude il girone di andata a due soli punti dal capolista. E poi, ancora calcio. La gara a San Buceto-Chieti, l'abbiamo detto anche prima, valida per il campionato regionale di eccellenza. Si giocherà sul neutro di Miglianico. E poi il basket di Serie A2. Per chiudere, Roseto, si libera l'ex May, ma il mercato deve attendere. Siamo così giunti al termine con questa notizia di pallacanestro dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, che tornerà domani puntuale alle 8. Io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, ringrazio voi per averci seguito e vi rimando alla prima edizione del TG6 alle 14. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.